ben tornati nella mia cucina oggi insieme a voi voglio fare un piccolo esperimento di panificazione tutti noi sentiamo sempre parlare di biga o di polish che sono delle tipologie di impasto che vengono impiegate normalmente nella panificazione con il glutine e la biga nello specifico è un impasto fatto da una piccola quantità di farina e una piccola quantità di acqua e di lievito prelevati dal totale della ricetta si fa questo piccolo impasto si ottiene una pasta morbida ma comunque soda che si fa fermentare quindi lievitare ad una temperatura controllata che può essere temperatura ambiente di 18 20 gradi o temperatura da frigorifero quindi 4 massimo 6 gradi per un tot di ore e il polish invece è un impasto molto simile alla biga ma decisamente più morbido quasi liquido perché viene utilizzata molta più acqua rispetto alla alla biga e anche in questo caso viene fatto fermentare per un lungo periodo di tempo o a temperatura ambiente o in frigorifero o usando entrambe le metodologie sulla carta e poi bisogna vedere all'atto pratico cosa si riesce a fare la biga dovrebbe dare un impasto finale più arioso degli alveoli più grossi ed irregolari una mollica più morbida e più aromatica il polish invece dovrebbe dare un pane per esempio con alveoli più piccoli ma più regolarmente distribuiti sulla superficie una superficie più croccante entrambe le versioni prevedono o una lievitazione corta o una lievitazione lunga la biga corta prevede una lievitazione di circa 16 ore a 18 20 gradi una biga lunga a 4 5 gradi per circa 24 ore poi 18 20 gradi per altre 24 ore la il polish invece il polish rapido prevede circa 48 ore a temperatura ambiente oppure un polish maturato dovrebbe riposare per circa 12 18 ore sempre a temperatura ambiente bene tutto questo è molto interessante è molto allettante quando lo vediamo ma per noi celiaci ha un valore questa cosa ha un senso nella panificazione senza glutine con i nostri mix commerciali non ne ho idea non ho mai fatto un paragone diretto tra un pane fatto con biga purish o con impasto diretto oggi voglio farlo insieme a voi voglio capire se effettivamente ha senso perdere tempo in questa gestione di impasto indiretto oppure si può impastare tutto insieme aspettare che lieviti e via dicendo per questo esperimento ho già preparato una miscela di mix ho utilizzato 150 grammi di miscela per pane emra food 210 grammi di miscela per pane nutri free e 180 grammi di miscela per pane mix bidi share a questo infine ho aggiunto 60 grammi di farina di grano saraceno li ho versati tutti in questa ciotola questo sarà la base dei miei pani e da qui preleverò quello che mi serve per fare la biga e il polish mentre per l'impasto diretto chiaramente quello lo faremo in una volta sola non aspetteremo tempi di lievitazione così lunghi per fare questa prova voglio utilizzare 50 grammi di mix per ogni sia per la lievito di birra fresco e l'acqua invece varierà la quantità di acqua varierà inizio con la biga metterò 50 grammi della miscela normalmente per la biga vengono utilizzati 2 grammi di lievito di birra fresco su 500 grammi di farina e sto parlando del glutine qua la quantità è davvero minima perché stiamo parlando di 50 grammi quindi se io dovessi dividere per 10 dovrei utilizzare 0,2 grammi di lievito e farebbe veramente molta fatica allora ho deciso di utilizzare mezzo grammo di lievito per ogni esperimento lo sciolgo nell'acqua ovviamente recupero tutto il residuo data data la minima quantità di lievito di lievito che rimanga attaccata ai bordi della ciotolina la uso tutto mescolo grossolanamente non ha molto senso che si stia lì ad impastare per bene vista la piccola quantità recupero tutti i residui dal bordo perfetto adesso faccio il polish prendo altri 50 grammi di mix adesso devo anche qui sciogliere mezzo grammo di lievito di birra qua invece ho 100 grammi di acqua a posto anche con questo finito adesso devo semplicemente coprirli con della pellicola e adesso li lascio riposare a temperatura ambiente e ci vediamo domani ciao rieccoci dunque dopo circa 19-28 ore eccoci qua con la nostra biga e il nostro polish stanotte verso mezzanotte la biga era più che raddoppiata di volume si stava appiattendo come potete vedere qua l'ho messa in frigo insieme al polish il polish non ha non presenta un'attività fermentativa molto evidente ha fatto la schiumetta si vede che c'è fermentazione perché c'è tutte le bollicine sulla superficie ma non è gonfiato tanto anche perché la quantità di acqua che è presente è piuttosto importante quindi non può gonfiare non ha una struttura che gli viene data dalla dalla farina però la fermentazione è evidente non so se si riesce a vedere la superficie non liscia la biga nella biga invece dove c'è molta c'è la metà di acqua quindi c'è più struttura è molto più evidente era gonfiato e poi si è appiattito quindi adesso procedo con i tre impasti ho deciso di fare una ricetta standard uguale per cui userò 200 grammi dello stesso mix che ho usato ieri 3 grammi in totale di lievito di birra fresco 180 grammi di acqua o 4 grammi di sale e userò un cucchiaio di olio d'oliva un cucchiaio di olio d'oliva che dovrebbe corrispondere a circa 8-10 grammi inizio con la biga faccio vedere la biga l'odore è un po più pungente per via della farina di grano saraceno e dunque stiamo parlando di biga quindi 130 grammi di acqua sciolgo direttamente nell'acqua il lievito aggiungo direttamente il sale e il cucchiaio di olio ripulisco un attimo il bordo e continuo ad impastare direi che ci siamo e adesso posso trasferire l'impasto in una ciotola unta ungo un po' con la superficie così mi viene facile dare una forma regolare e aggiungo una b per ricordarmi che si tratta della biga e adesso passo all'impasto con polish verso il polish sciolgo il lievito nell'acqua aggiungo il mix e ripeto lo stesso tipo di procedimento ungo un'altra ciotola e verso l'impasto al suo interno è una bella p per indicare che è il polish e adesso passo all'ultimo impasto cioè l'impasto diretto qua verso l'acqua in ciotola tutto il lievito se fa molto freddo possiamo utilizzare l'acqua appena appena tiepida non calda tiepida aggiungo tutto il mix perfetto qua ci sono i nostri impasti a distanza di due ore ad una temperatura di circa 17 18 gradi anche se le ciotole sono leggermente diverse però qua è evidente la lievitazione il primo pane che formerò sarà quella biga io non sgonfiero l'impasto ma cercherò di toccarlo il meno possibile per cui formerò il pane direttamente sulla carta da forno sul retro della carta ho messo l'iniziale la b spolvero con poca farina di riso stacco l'impasto gli darò una forma allungata non lo terrò a pagnotta perché tre pagnotte non riesca ad infornarle tre filoni si però anche la superficie e con la spatolina sposto l'impasto non lo sgonfio ma lo lascio gli do una forma allungata sigillo il fondo lo metto da parte e passa al secondo impasto mentre nel frattempo faccio riscaldare il forno con la pietra refrattaria messa nella parte bassa a 250 gradi in modalità statica se voglio tenere ferma la la forma mentre lui continua a lievitare gli faccio una sorta di stampino con la carta alluminio la pellicola se lo tengo da parte passo all'impasto diretto siccome stanno lievitando troppo adesso li metterò tutti e tre in frigo mentre il forno riscalda allora il mio forno è pronto sulla pala quindi vediamo se riesca a infornarli tutti e tre perché in buon e qua ci sono i panni cotti ritaglio la scritta perché adesso devo togliere la carta qua ho inciso io un po' meno bene rispetto a questi due che si sono aperti benissimo adesso devo solo aspettare che il pane si raffreddi per poterlo affettare non va affettato caldo perché la mollica si rovina questo succede già nel pane con il glutine figuriamoci nel nostro pane che è ricchissimo di amidi quindi lo lasciamo asciugare bene per circa un'oretta ed eccoci qua il pane si è raffreddato siamo pronti per aprirlo io nel frattempo ho scritto dei promemoria per non confonderli dunque iniziamo con il pane a biga il pane è leggerissimo consideriamo che ogni pane pesava 200 più 180 380 diciamo sui 400 grammi vediamo quanto pesa ogni pane pesa 300 grammi vediamo com'è il pane a biga sentiamo intanto il rumore del taglio la crosta sembra croccante vedete? tutto sommato gli alveoli sono molto ben distribuiti la mollica è asciutta e soffice la crosta è croccante sottile e di un bel colore bruno non esageratamente scuro ha un gran bello odore tra l'altro la mollica è morbidissima ed è anche piuttosto buona quindi polish la crosta è anche in questo caso abbastanza croccante mollica morbidissima anche in questo caso alveolatura piccola ma regolare io non vedo nessuna differenza né nella crosta né nella mollica tra biga e polish francamente mi sembrano identici non sono in grado di distinguerli tagliamo anche questo e facciamo l'assaggio super morbido anche questo ovviamente buonissimo anche in questo caso molto saporito nessuna differenza impasto diretto qua è un inciso meglio l'apertura è notevolmente più marcata la crosta è croccante la mollica in questo caso è leggermente diversa è un po' meno un po' meno come dire gonfio il pane ma perché? perché si è aperto di più non perché abbia livitato in maniera diversa essendo più inciso si è aperto più di lato è poco poco diversa la mollica è forse leggermente proprio un pochettino più compatta vi faccio vedere il paragono con quella biga ma roba da poco poi la crosta è identica è sempre morbido adesso forse direi che questo come livitazione si è sviluppato un pochino meno bene ma proprio roba da poco in tutti e tre i casi la crosta è abbastanza croccante e hanno lo stesso profumo tutti e tre questo è un poco meno soffice si vede che si spezza in maniera più netta la mollica è più è pur sempre morbida per carità non posso dire che non sia morbida guardate qua ma il pane si spezza leggermente meno bene ma roba proprio di pochissimo e la mollica quasi uguale per cui se non abbiamo tempo e dobbiamo fare il pane ci dobbiamo spicciare subito perché non abbiamo pianificato in tempo l'impasto diretto va benissimo non viene un pane brutto anzi comunque è un pane di ottima qualità se abbiamo tempo invece possiamo optare biga o pulish fondamentalmente credo che però la biga sia leggermente più facile da seguire perché vedendo la lievitazione perché abbiamo messo meno acqua quindi la pasta proprio gonfia e fa cioè si vede proprio l'alveolatura è più facile da seguire la biga perché lo facciamo gonfiare quando la biga si appiattisce e collassa inizia a collassare è pronta per essere utilizzata possiamo fare l'impasto nel polish abbiamo visto che questo non si può verificare perché essendo troppo liquido non è facile da seguirlo per cui opterei per la biga per una questione di praticità bene abbiamo scoperto o quantomeno io ho scoperto che tutto questo abisso di differenza tra le tre tecniche di impasto non c'è penso che si possa scegliere tranquillamente in base alle proprie necessità e al tempo che sia a disposizione grazie per essere stati con me alla prossima ciao 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 Grazie a tutti